Abbiamo preferito annullare tutto piuttosto che rischiare una multa o chissà quali altre conseguenze a questo punto. Sono iniziate le operazioni di smontaggio nell'area antistante lo Sport Park di Fano dopo una settimana ricca di cibo, musica e intrattenimento. Certo il Mac Beer Festival poteva terminare con la ciliegina sulla torta, visto che per domenica sera era atteso il concerto di Pink Sonic con un tributo ai Pink Floyd. E invece l'organizzazione che ha investito soldi propri nell'evento ha deciso all'ultimo di annullare tutto. E sì perché dopo un sopralluogo dell'ARPAM il funzionario Brunori ha firmato un'ordinanza con la quale sono stati ridotti i decibel consentiti da 70 a 65. Questi se superati avrebbero comportato un verbale e quindi nessuno se l'è sentita di rischiare anche perché, come dicono i componenti dello staff, svolgere un concerto con questi limiti è praticamente impossibile. Rimane l'amarezza per quello che abbiamo fatto, per l'investimento fatto, per il lavoro fatto, perché comunque come vedete c'è stato un allestimento proprio di tutta la struttura. Abbiamo cercato di far trovare una situazione bella, allegra, addobbata bene. Abbiamo lavorato per dieci giorni per preparare il tutto e quindi noi eravamo già pronti. Purtroppo è andata così. L'organizzatore ci tiene a precisare che i concerti sono sempre terminati entro mezzanotte e un quarto, compreso sabato sera, ma evidentemente non tutti i residenti della zona hanno gradito le esibizioni, visti gli esposti e le lamentele avanzati in comune. È stata comunque una bellissima festa, rivolta a persone di tutte le età, ci sono state tantissime famiglie, nonni, nonne, ragazzi. Non c'è stato nessun tipo di disordine, non è mai intervenuta nessuna forza dell'ordine. Non c'è stato un bicchiere di vetro roto per terra, insomma questo la disse lunga. Anche venerdì sera, che era la serata un po' più movimentata, forse visto il concerto degli SIDC, ha portato tantissimi ragazzi. È stata comunque una serata bella, pulita e piena di gente che ha avuto voglia di divertirsi. La decisione di annullare l'iniziativa, avvenuta poche ore dal concerto, è andata anche a discapito di persone provenienti da fuori regione che si sono presentate allo sport park ignare del provvedimento. Ho preso un po' le critiche e le arrabbiature di tutti, perché comunque se la sono presi tutta tutti con me. Mi ha dispiassuto moltissimo per una famiglia di persone, una famiglia insomma non giovanissima, ma che mi hanno aggredito purtroppo verbalmente, che avevano fatto 200 chilometri per venire ad assistere a questo concerto. Oltre appunto all'amarezza che già avevo e la malinconia, c'è stato anche questo episodio che è stato probabilmente più eclatante, però tantissime tantissime persone che si sono lamentate perché non c'era il concerto.